Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Protagonista storica di Uomini e Donne, Ida Platano è spessa al centro della scena per il suo carattere, la sua bellezza, la sua determinazione e la sua storia E il gossip, da qualche tempo, impazza in relazione a una sua presunta intesa con un personaggio altrettanto noto, visto che è l'ex di Paola Barale Che Uomini e Donne possa generare un certo gossip è fuor di dubbio, il fatto stesso che siano i rapporti sentimentali al centro della scena porta naturalmente i fan a interrogarsi su determinati atteggiamenti o segnali E se poi si parla di Ida Platano, tra le protagoniste storiche del programma, allora le voci si rincorrono velocemente Ida Platano Gianni Sperti. Bellissima, sempre al centro della scena, oggetto talvolta di critiche, sensibile ma anche determinata, è stata ed è una protagonista storica della trasmissione condotta da Maria De Filippi In particolare, da qualche tempo si dice che tra lei e l'ex di Paola Barale, famoso, bello e dallo sguardo profondo, ci sia un rapporto più o meno intenso Ecco la verità.Ida Platano, l'intesa con l'ex di Paola Barale C'è un qualcosa nel carattere che sembrerebbe legarli in effetti, entrambi sensibili, quando necessario, capaci di grandi slanci di dolcezza ed empatia, ma contemporaneamente in grado anche di avere un atteggiamento determinato quando è necessario Così la bella Ida Platano sembrerebbe avere un'ottima intesa con l'ex di Paola Barale Le foto la inchiodano.Anzi, inchiodano entrambi, perché lui non sembra essere affatto dispiaciuto dell'abbraccio della dama Che ha un sorriso radioso.E in più di un'occasione lui si è espresso a favore di lei Ida Platano di momenti particolari a uomini e donne ne ha attraversati diversi, spessa al centro della scena e pure oggetto di critiche 39 anni, molto amica di Gemma Galgani, ha sempre però saputo sostenere con energia le proprie argomentazioni E qualcuno sembra aver avuto una buona intesa con lei.Tanto che si è parlato pure di altro Ecco la foto che inchioda entrambi, che vicinanza.Le voci dunque si rincorrono da un pezzo Di certo, Ida Platano e l'ex di Paola Barale, nonché opinionista a uomini e donne Gianni Sperti, sembrano andare d'accordo E si è intuito anche dalle dinamiche in studio, l'ex ballerino, che ha sempre mantenuto un discreto riservo sulla sua vita privata dopo la fine del matrimonio con Paola Barale Sembra avere una particolare inclinazione nel comprendere la dama Quale sia la natura del rapporto nessuno può dirlo se non i diretti interessati, che se hanno molto amici o complici nel gioco Quello che poi effettivamente il programma è, o che abbiano un rapporto fraterno o una corrispondenza di amorosi sensi è difficile a dirsi Senz'altro si intuisce tra loro una grande vicinanza Un fatto è certo, alcuni fan gioiscono dell'intesa tra i due e su una fanpage a lei dedicata hanno pure realizzato un collage parlando del bellissimo rapporto esistente tra l'ex ballerino e la dama Come sembra confermato, tra l'altro, da questo scatto Instagram di qualche tempo fa Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao